e quindi il signor Tom Lenz lo legga in inglese. A nome della missione degli Stati Uniti in Vietnam, il popolo americano, vorrei offrire le mie sincere condoglianze alla comunità di Plum Village e al Tempio Tu You, a tutti i discepoli e a tutti i seguaci del maestro Thich Nhat Hanh in occasione della sua scomparsa. È un'occasione davvero triste, ma sono onorato dall'opportunità di venire a porgere le mie condoglianze a nome del mio governo e dei miei concittadini. La scomparsa di Tai sarà pianta in tutto il mondo, ma la sua scomparsa sarà particolarmente sentita negli Stati Uniti, dove durante la sua vita Tai ha avuto un grande impatto toccando vite con tutti i suoi insegnamenti e forgiando stretti legami con i leader politici e religiosi per più di 60 anni. Thich Nhat Hanh ha incontrato molti funzionari statunitensi durante la sua vita, tra cui il nostro ex ambasciatore in Vietnam e attuale assistente segretario per l'Asia orientale e del Pacifico, Daniel Krittenberg, il senatore Patrick Lehai, l'ex segretario della difesa Robert McNamara ed altri. In tutte queste interazioni Tai è stato un impavido sostenitore della pace e dell'azione sociale compassionevole. Lascia negli Stati Uniti una forte e rispettata eredità di attivismo non violento ed impegno spirituale, compresi tre monasteri con sede negli Stati Uniti, nella tradizione di Plum Village, situati a New York, in California e in Mississippi. Il messaggio di pace di Tai ha anche giocato un ruolo fondamentale nel portare alla guarigione personale di migliaia di vietalani provenienti dalla violenta guerra tra America e Vietnam che soffrivano di PTSD, stress mentale, e nel portare alla riconciliazione tra le nostre due nazioni, una riconciliazione che proprio l'anno scorso ha segnato la pietra a miliare di 25 anni di legami diplomatici formali. Infine Tai è stato anche una delle prime persone a portare in America il dono delle pratiche zen di mindfulness, che da allora sono diventate onniprosenti nel campo della sanità, della psicologia e dell'educazione. E' nella vita quotidiana di migliaia di americani. Thich Nhat Hanh sarà ricordato soprattutto per la sua instancabile difesa della libertà religiosa, nei diritti umani, della non violenza e per il suo messaggio di consapevolezza nella vita quotidiana. Anche se l'influenza di Tai sia diffusa ben oltre il regno della religione, lascia un'eredità come uno dei leader religiosi più influenti della storia recente. Tai è probabilmente meglio ricordato come una luce guida nel dialogo interreligioso e interconfessionale. Nel suo libro, Buddha vivente e Cristo vivente, Tai ha scritto che i cristiani e i buddhisti, che vivono entrambi profondamente nella loro vita contemplativa, non pensano che quelli di altre tradizioni stiano sbagliando a strada. L'esperienza religiosa è un'esperienza umana, anche a che fare con la coscienza umana, individuale e collettiva. Attraverso il suo ampio dialogo e le sue relazioni, persone di tutte le religioni hanno imparato molto le une dalle altre. La vera compassione di Thich Nhat Hanh per l'armonia interreligiosa era probabilmente più visibile nella sua relazione con il dottor Martin Luther King. Al loro primo incontro, nel 1966, Tai riconobbe la natura di Buddha nel ministro Battista e disse a King che era un bodhisattva. Nel nominare Thich Nhat Hanh per il premio Nobel, dottor Martin Luther King ricambiò quell'onore, chiamando Tai un apostolo della pace e della non violenza. Mentre rifletto sulla totalità della vita e l'influenza del maestro Thich Nhat Hanh, un altro titolo che credo descriva Tai è profeta. Il termine profeta nel senso biblico non è come comunamente si fraintende uno che predice il futuro, ma piuttosto uno che comunica con il Divino e poi proclama quei messaggi ad altre persone. I profeti parlano con autorità e proclamano la verità, ma spesso la verità che portano, anche se necessaria, è scoboda. E sebbene Tai dicesse la verità e la dicesse con la massima compassione, le sue parole, come quelle di suo fratello Martin Luther King, non furono sempre accolte con lo spirito compassionevole con cui venivano offerte. Thich Nhat Hanh pensava profondamente, riflettendo sulle domande eterne della vita, dell'esistenza e del significato. Ha fatto sì che anche noi le meditassimo. Ci ha invitato a considerare la via degli altri. Seguendo le orme di Gesù e di Martin Luther King, Tai disse, per amare i nostri nemici dobbiamo praticare uno sguardo profondo per capirlo. Se lo facciamo, lo accettiamo e lo amiamo. Nel momento in cui lo accettiamo e lo amiamo, cessa di essere il nostro nemico. Il nostro mondo oggi è pieno di animosità, diffidenza, rabbia, vittime. Questo livore esiste tra persone di diverse religioni, tra persone senza religione e persone di fede, tra persone con diverse condizioni politiche, la nazionalità diverse, o anche tra persone con opinioni diverse sull'attualità. Ma profeti come Thich Nhat Hanh ci dicono a tutti noi, persone, istituzioni e governi, di amarci l'un l'altro, ad avere compassione per i nostri nemici, di cercare di capirli e alla fine di amarli. E questo è molto difficile da ascoltare per alcune persone. È ancora più difficile da fare. Piuttosto che capire il nostro nemico, preferiamo temerlo. La voce profetica di Thich Nhat Hanh ci chiama alla compassione, alla tolleranza e alla comprensione, all'accettazione di coloro con cui non siamo d'accordo. In un discorso sulla vita dopo la morte, Thay una volta ha notato che le nostre vite sono come candele. Anche se la candela si accorcia, continua ad emanare luce, calore ed energia. Quella luce, calore ed energia vanno fuori nel mondo, toccano le altre vite, le vite degli altri, fornendo calore, luce per leggerle, per leggere. Ha detto che anche dopo che i nostri corpi fisici non sono più qui, il nostro vero sé è stato offerto al mondo e questa è la nostra continuazione. Quell'energia ritorna anche a noi, a volte immediatamente, a volte molto dopo che ce ne siamo andati. Non è solo il mio desiderio e la mia preghiera, ma la mia ferma convinzione che il messaggio di Thay, di compassione e non violenza, libertà religiosa, diritti umani e la capacità di vivere in amore e in pace con i nostri vicini continuerà ad emanare in tutto il mondo e ritornerà a noi e avanti verso le generazioni future. Grazie. 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 Grazie.